La musica libera, libera la musica. È il concorso musicale per artisti emergenti organizzato dalla regione Emilia-Romagna. Politicamente scorretto vi invita alla premiazione della sezione Free Music Non Mafia. Ci sarà anche il concerto di Gaemon e conduce Paola Maugeri. Vi aspettiamo il primo dicembre 2015 alle 21 alla zona Roveri Music Factory di Bologna. Grazie per la visione! Grazie per la visione!